L'agricoltura sostenibile è attraverso la promozione del biodistretto, il turismo alternativo che guardi alla rivalutazione del nostro ambiente e soprattutto il controllo sul fiume Noce. Sono questi i punti cardine da cui il Comitato per le bonifiche dei terreni, dei fiumi e dei mari della Calabria vuole ripartire. A tirare le somme di un'estate poco esaltante è stato il presidente Giovanni Moccia, proprio quello che abbiamo visto nel corso di questa stagione deve farci riflettere. L'alto tirreno cosentino non può più sostenere un turismo di massa che si concentra soprattutto nei 15 giorni centrali di agosto lasciando un apparente benessere e un reale trauma per il territorio. Per 15 giorni ne risente l'ambiente insomma e non è più tollerabile anche perché le lamentele fioccano e il danno d'immagine arrecato all'intero comprensorio è altissimo. Chi si lamenta a chi ho usato Moccia è proprio colui che sporca di più. Occhi puntati anche sul fiume Noce, il suo habitat va ripristinato e il discorso deve andare oltre l'impianto di Sansago che per gli ambientalisti deve diventare un oasi. Tutti i comuni del Lago Negrese devono controllare i propri depuratori, ha sostenuto il presidente del movimento ambientalista. Quel corso d'acqua è stato deturpato, il nostro mare ne risente e la questione deve interessare tutti i primi cittadini. A questo discorso va affiancato anche quello dell'agricoltura sostenibile attraverso la formazione del biodistretto, argomento che abbiamo trattato recentemente con la vicepresidente del comitato promotore, Mascia Marini. L'obiettivo è quello di ritornare alle coltivazioni biologiche locali e a una intensificazione di tali colture. Il territorio ne è ricco e proprio Moccia invita l'associazione zafarana di Tortora affinché aderisca a questo importante progetto. Sembra proprio quindi che settembre inaugurerà una stagione ricca di idee e proposte.